buongiorno questa è la bandiera dell'onu non so come inquadrare mail insieme vediamo un po ci si fa voi direte perché ti fai questo video che inquadra la bandiera dell'onu perché io credo nell'onu io sono una persona che crede nei potenti nei ricchi sono un senza tetto che vive per strada da 15 anni ma io ho conosciuto gente che aveva del potere ed era ricco e vi posso assicurare che quelli che ho conosciuto io erano meno meschini dei poveri erano meschini meno dei poveri poveri sono molto più meschini io riguardo parlo di quelli che ho conosciuto ne ho conosciuto due che erano ricchi ed erano meno meschini dei poveri i poveri sono meschini ve l'ho già bella detto in un video questo video è per dirvi comunque un'altra cosa che io non sono un personaggio non sono una vostra bambola che potete dirmi no gabri dai come se fossi un imbecille che va ripreso io ho le mie idee ho le mie passioni ho le mie le mie sicurezze per certi aspetti perché vivere per strada non c'è sicurezza però ho il mio carattere ho i miei ideali ma io non sono una bambola non è che dovete proteggermi nei commenti non è che mi dovete aspettare proteggere nei commenti non sono stupido non sono mentalmente ritardato io modesti a parte ho fatto ora un'intervista con con un giornale si chiama report pistoia e quando verrà pubblicata la pubblicherò su facebook e magari in descrizione qui sotto a questi ai video che faccio quello che voglio dirvi che non sono stupido non sono ritardato mentale cioè questo ogni tanto vedo vedo gente che mi protegge dice no vabbè è un periodo down oppure no vabbè l'ha detto perché come se dovesse essere protetto ma protetto da cosa protetto da chi guarda che io sono povero il mio problema è che sono povero è solo questo il problema sono una persona che avrebbe voluto raggiungere la ricchezza finanziaria il successo la fama la gloria la grandezza ma non ce l'ho fatta si dice sempre o almeno per ora non ce l'ho fatta perché bisogna dirlo ma ho 47 anni non credo di farcela devo essere sincero io mi impegno tutti i giorni voi non sapete quello che faccio non faccio solo video su youtube faccio altre cose di cui ora non ne voglio parlare che sono all'inizio e non mi va di parlare tutto riguardando soldi perché a me piacciono soldi a me piace proprio i soldi non era solo una questione di potere che si nasconde dietro l'avere il denaro è proprio mi piacciono i soldi piace le monete piace averle in tasca mi piace mi piace guardarle mi piace giocarci mi piace mi piacerebbe fotografarle fare dei video ma non so se andranno andranno molto per la via delle visualizzazioni del successo però mi piacerebbe farlo perché io le adoro soldi ma quello che voglio dirvi io non sono un personaggio io sono reale non mi sono costruito un personaggio sono molto reale sono una persona che vive per strada da 15 anni orfano che i parenti lo hanno chiuso fuori nel senso non mi vogliono vedere non mi vogliono aiutare che per aiutare almeno adesso ci sarebbe solo da pagare una stanza che io non posso permettermi una stanza singola con uso della cucina per chiudermi perché voglio tagliare con il mondo di questo ambiente di povertà fatto di di cattiverie gratuite di crudeltà gratuite ma nessuno mi paga la stanza voi direte ma perché non te la paghi te prendi l'assegno di inclusione e invalidità civile pagatela te non posso pagarmela perché una stanza a prato perché si parla sempre male di altre città una stanza a prato mi hanno chiesto 500 euro vi rendete come a prato non la conoscerà un culo a nessuno è una città di merda fatta di gente di merda soprattutto i poveri poi sicuramente bisogna anche dirlo ci sarà qualcuno un po più serio un po più un po più onesto ma è una città di merda io sono senza tetto orfano mi hanno chiuso fuori gli amici i presunti amici ma non provo odio per questo questa bandiera non provo odio non provo rancore non provo desiderio di vendetta perché io capisco anche i punti di vista degli altri perché sono abbastanza empatico che è una parola che va di moda ora negli ultimi anni c'è questa parola che è empatia nel mettersi nelle scarpe degli altri per sapere cosa si prova per sapere cosa provano anche gli altri in realtà io sono una persona intelligente non mi vergogno a dirlo sono molto intelligente perché pochi senza tetto avrebbero le palle di essere onesti e sinceri di aprire un canale youtube in cui raccontano tutta la tutta la propria vita lo sapete quante volte mi hanno fermato dal fare dei video perché non volevano essere ripresi no no ma che tutte schifezze mamma mia ma che tutti i bastardi sono questi sono i loro commenti i poveri fanno schifo ma io non sono un personaggio questo è il video di oggi ma io non sono un personaggio sono una persona reale e molte volte mi reputo perché lo devo dire perché questo va detto davvero più intelligente di voi che mi seguite perché voi vivete di frasi fatte vivete di frasi fatte che si vedono su su tik tok su youtube instagram facebook su twitter su vari social sui vasi sulle varie frasi fatte ma io non sono solo fare frasi fatte a me piacciono le frasi fatte ma c'è anche la realtà c'è la praticità della vita non esistono solo frasi fatte non sono personaggio sono una persona intelligente molti mi hanno paragonato a una persona che non cito perché questa persona è proprio ritardata mentale ma non nel senso dispreciativo del termine ha proprio delle lacune mentali e si vedono quando si ragiona io non c'ho lacune mentali a me non ne vedi quando ragiono lacune mentali io sono povero sono povero e mi credo ne chi ha nel potere io credo in chi ha il potere in chi ha i soldi io ci credo perché sono comunque sia sono loro la soluzione voi non siete la soluzione perché non siete abbastanza intelligenti non siete empatici vivete di frasi fatte vivete di di vecchi di vecchi rancori vecchi desideri di vendetta vecchie questione che non sapete non avete saputo risolvere con voi stessi basta non dico nient'altro viva le nazioni unite